vuoi gustare buon cibo e ascoltare buona musica ciros people è il posto che fa per te in una location immersa nel verde in un'atmosfera che privilegia il connubio tra arte musica e ricercata ciros ti aspetta incontrata bonfanti a due chilometri da monte maggiore bel sito per info 388 3433 383